Esco dal mercato, è questo il pensiero che ho avuto dopo l'ennesimo ribasso di Bitcoin all'interno del mondo delle criptovalute e parliamoci chiaramente, anche se sono all'interno del mondo cripto da tantissimo tempo e di crolli ne ho visti tanti a partire da quello di FTX, forse uno dei più importanti, o tra il crollo grazie a Luna e molti molti altri ecco che questa volta la situazione sembra diversa, o almeno questa sensazione di continuo andare verso il basso per quanto riguarda il valore di Bitcoin e di conseguenza di tutte le altre criptovalute sembra qualcosa di nuovo, che non è mai capitato, ma in realtà è una situazione che ricorre spesso, soprattutto in diversi periodi dell'anno parliamoci chiaramente, settembre non è mai stato un bel periodo nel mondo delle criptovalute come abbiamo già visto in un altro video, infatti solo due volte il mondo delle cripto e Bitcoin è stato positivo in questo periodo per cui dovevo sicuramente aspettarmi l'ennesimo ribasso, che forse non sarà nemmeno l'ultimo aspettiamo sicuramente tutti ottobre, ma il pensiero di uscire dal mercato dopo molto tempo per un attimo è balenato la mia testa questo grazie a tutti gli alert che avevo, dato che ho installato su mio cellulare Coinbase, CoinMarketCap, Crypto.com, Binance ecco, all'ennesimo ribasso mi arrivano, come per tutti, alert con tutte le criptovalute che stanno calando oltre ad avere ovviamente criptovalute sul mio ledger, dove quando succede questo, simultaneamente mi viene ovviamente di andare a vedere quanto la cifra che ho all'interno di questo ledger è calata ecco, tutto questo è veramente frustrante, lo ammetto e lo sarà anche per voi quanti di voi in questo momento hanno pensato di uscire dal mercato o sono usciti ecco, io penso che molte persone l'abbiano fatto e molte persone ci stiano pensando anche perché c'è sempre il dubbio, siamo in bear market, già inoltrato o stiamo andando verso un bull market ora in questo video vi voglio far capire perché il pensiero di uscire dal mercato che mi ha balenato in quell'attimo è subito stato spazzato via, di come ho affrontato e di come affronto questi momenti e soprattutto l'esperienza che cosa mi ha insegnato in più vi farò vedere anche alcune statistiche dopo l'alving di Bitcoin per farvi capire ancora di più la situazione a 360 gradi come sta andando ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, bentornati in questo nuovo video sicuramente non è un bel periodo per Bitcoin e non è un bel periodo per le criptovalute di fatti Bitcoin è arrivato a 56.000 dollari e le altcoin stanno scendendo veramente a vista d'occhio ora la voglia di uscire dal mercato soprattutto quando si aveva raggiunto livelli molto alti per quanto riguarda il capitale investito e quindi il capitale era raddoppiato se non triplicato o quadruplicato ecco in questo momento è grande soprattutto per chi è entrato in un bear market e è ancora in guadagno fortunatamente è questo il mio caso ciò non toglie che ci sono molti rimpianti quando succedono queste cose ovviamente si pensa al periodo in cui il proprio portafoglio è stato in un all time e di conseguenza il perché non si è tolto il proprio capitale in quel momento ma avendo un obiettivo e l'obiettivo finale è quello di una bull run, di un alt season ecco che la mia testa continua ad essere positiva e continua ad essere lucida e fredda aspettando quel momento e analizzando i dati soprattutto in questo mese che usciranno e nel prossimo ora cosa ho imparato e cosa sto imparando all'interno del mondo critico ma soprattutto che cosa mi ha portato la mia esperienza e che cosa mi ha dato per far sì che queste situazioni siano superate nel migliore dei modi e per gestirle nel modo migliore prima di dirvele vi chiedo come sempre di aiutarmi di iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella e cliccare like oltre a questo di entrare nel canale telegram qui sotto molti del canale telegram si sono lamentati nuovamente giustamente del ribasso che c'è stato perché si aspettavano molto di più dalle criptovalute, da bitcoin ecco ragazzi analizziamo tutto insieme nel canale telegram gratuito qui sotto potete entrarci ci scambiamo un sacco di opinioni e ci sono un sacco di persone informate sul mondo cripto ora continuiamo la mia esperienza passata nel mondo sportivo mi ha aiutato e mi sta aiutando moltissimo all'interno del mondo delle criptovalute ora non voglio comparare sicuramente questi due settori perché sono completamente diversi ma le emozioni e quindi le emotività che mi ha dato il poter giocare da professionista per più di dieci anni all'interno del mondo della palacanestro mi sta aiutando molto a superare i momenti di down che ci sono all'interno delle criptovalute e quindi di attuare una strategia che avevo anche all'epoca in cui facevo lo sportivo professionista questo perché se partiamo dall'inizio il palo sportivo mi aveva portato ad essere sotto pressione soprattutto agli inizi e mi aveva portato anche a dover imparare a gestire questa pressione prima di ogni partita infatti dato che ogni partita per me era un esame c'erano più di 4.000-5.000 persone a vedermi ecco che dovevo prepararmi psicologicamente non era di certo come andare al campetto con gli amici e di conseguenza dentro la mia testa iniziavano pensieri, problemi ma soprattutto il cervello iniziava a darmi suggerimenti negativi pensando sempre che qualsiasi cosa io avessi fatto all'interno del campo sarebbe nata male ecco partire in questa maniera era deleterio ma la cosa non più deleteria era quella di ascoltare le voci all'esterno i tifosi che magari mi insultavano avversari o i giornali che scrivevano di me della città ovviamente non è che ero un giocatore NBA ma nella città in cui giocavo e magari non facevo una prestazione corretta influenzavano me stesso e influenzavano il mio modo di giocare e le mie scelte e questo ho imparato col tempo che era la cosa che mi danneggiava di più mi stavo autosabotando perché gli altri dicevano che io ero in un certo modo alla stessa maniera io iniziavo ad essere quello che volevano gli altri ad agire in quel determinato istante nel contesto in cui ero nella maniera sbagliata e la stessa cosa mi stava succedendo quando ho iniziato ad investire all'interno del mondo delle criptovalute le voci che sentivo nel mondo del paracanestro erano le news e le novità negative che sentivo anche riguardanti magari uno dei miei investimenti nel mondo degli investimenti e delle cripto per cui iniziavo ad ascoltare chi era pro cripto, chi era negativo se il periodo era negativo io toglievo i miei soldi dal mondo cripto se era positivo allora che tutti dicevano che era positivo li rimettevo all'interno ed era un completo essere in balia delle parole degli altri e del volere degli altri che cosa ho attuato in quel periodo? mi sono isolato ok, per isolato non intendo che sono diventato un'eremita ma isolato nel senso che qualsiasi parola mi dicesse una persona qualsiasi cosa io leggessi ecco non doveva influenzarmi e dato che qualcosa comunque mi influenzava nel determinato momento in cui la leggevo ho scelto di non leggere più i giornali nel periodo in cui io giocavo in quel determinato ambiente la stessa cosa ho attuato con le cripto ovvero ho deciso di non leggere più le news negative di disinstallare in questo periodo magari le applicazioni che mi danno le alert o di tenerle ma modificare le impostazioni sull'alert e quindi di leggere solo i dati reali e freddi senza opinioni negative e positive in modo che mi sarei fatto io una mia opinione e l'ambiente esterno non mi avrebbe influenzato perché in questa vita ho capito che non possiamo controllare tutto non possiamo controllare l'esterno ma possiamo controllare solo l'interno ovvero noi stessi e per farciò nella maniera migliore dobbiamo avere una strategia anche in questo caso per cui nel mondo cripto e negli investimenti ho deciso di disinstallare queste applicazioni di non ascoltare nessuno all'esterno e di valutare da solo tecnicamente ovviamente guardando i dati guardando i progetti guardando la community ma mai facendomi influenzare dagli altri come ho fatto magari all'inizio e ho fatto degli errori assurdi così che potesse dipendere tutto e solo da me stesso con questo non voglio dire che non guarderò che cosa dirà la SEC in futuro di quanto si alzeranno si abbasseranno i tasse di interesse ripeto io i dati li guarderò tutti sempre e comunque perché con quelli mi farò un'idea positiva o negativa io so qual è il mio obiettivo so qual è la mia strategia so che dovrò affrontare ancora qualche ribasso ma so che se in un determinato momento le cose vanno come mi sono prefissato ecco sto facendo la scelta giusta se in quel determinato momento non stanno andando come mi sono prefissato allora lì le cose si possono rivalutare come ho sempre detto siamo all'interno dei tre mesi più importanti da quando c'è stato l'harding in questi tre mesi ottobre, novembre, dicembre ci si giocherà tutto settembre sappiamo che è un mese negativo potrebbe stupirci nelle prossime settimane per quanto riguarda i dati che avremo dalla SEC per cui anche questo mese comunque è un mese molto importante la cosa che consiglio a tutti quanti è di far questa di isolarsi e valutare soltanto con la propria capacità e con la propria testa oltre a questo voglio anche mostrarvi i dati di BTC dopo l'harding quali sono stati nel 2012 BTC è rivolto a perdere nel periodo post-harding ovvero nel periodo in cui c'è stato l'harding e quello di inizio bull market un 30% che è tanta roba nel 2016 invece dal periodo post-harding 32% nel 2020 ha perso solo un 15% e ad oggi quanto stiamo perdendo? innanzitutto bisogna vedere quant'era BTC come valore ad aprile 2024 ed era intorno ai 63.800 dollari oggi siamo a 56.000 dollari siamo solo ad un meno 10% e sembra che stia a mano tutto a rotoli se guardiamo le altre volte come è andata è arrivato anche a un meno 32% dopo aver attraversato nell'harding precedente un meno 30% ed anche un meno 15% nell'ultimo alharding che c'è stato per cui ragazzi siamo ancora in linea e tutto deve ancora succedere se succederà con questo vi do l'ultima cosa che faccio sempre quando ci sono questi periodi siamo tutti inculcati a vedere la situazione in questo momento media o nel breve termine non ragioniamo mai nel lungo termine ed è una cosa che ripeto sempre all'interno dei miei video ragionare a lungo termine facciamo un zoom out torniamo indietro di un anno ecco un anno fa BTC era a 25.000 dollari e in questo momento siamo a 56.000 dollari chi non avrebbe messo la propria firma per un BTC da 56.000 dollari ad oggi all'epoca? io l'avrei messo sicuramente e voi? volete un altro esempio? se un anno fa avessimo investito questi soldi all'interno di queste criptovalute ecco quanto sarebbero la fonte è CoinSource e ci fa vedere come mettendo 1.000 dollari nel 2021 in queste cripto il valore sarebbe moltiplicato su Solana 87.380 dollari Dogecoin 21.270 Polygon 17.790 Binance 13.790 Ethereum 3.309 XRP 2.570 Bitcoin 1.950 Cardano 1.790 e Uniswap 1.240 ora spero che abbiate capito che fare zoom out vi chiarifica la situazione vi fa capire in che momento siamo ma vi fa capire soprattutto in che momento è la criptovaluta su cui avete puntato lo so non è semplice vedere il proprio wallet il proprio portafoglio scendere soprattutto se non si è entrati in bear market se si è entrati magari nell'ultimo periodo ecco questo fa sicuramente molto molto più male ma ripeto non dovete farmi influenzare dagli altri dovete avere una strategia e soprattutto fare un zoom out definitivo e pensare a lunga se non alla lunghissima se ci sarà una recessione potrete anche decidere di detenere i vostri soldi all'interno delle criptovalute e se beccherete una recessione io ho beccato un bear market in pieno la prima volta ho detenuto tutti i miei soldi all'interno di quelle cripto e in sei anni questi sono più che moltiplicati per cui questo è solo un esempio per farvi capire come funziona il mondo cripto ecco potrebbe non essere così magari nei prossimi anni e nei prossimi alvin potrebbe esserci una crisi come non potrebbe esserci potrebbe esserci un'impennata del valore dell'SP500 come potrebbe crollare in maniera disastrosa nessuno può sapere il futuro né Warren Buffett né Arthur Sales nessuno può dirvi come andranno le cose l'unica cosa che potete fare è guardare i dati avere una strategia continuare con la vostra strada e avere una mentalità da investitore ma soprattutto da persona che dipende solo da se stesso e da nessun altro grazie per la visione se vi è piaciuto questo video vi chiedo di aiutarmi link Bitgett qui sotto se lo utilizzerete faremo un buon volume di trading potremo avere delle competition personalizzate per il canale ed oltre a questo potrebbero darmi anche dei premi merchandising o molto altro che potrò condividere con voi inoltre vi chiedo anche di iscrivervi al canale Angry Crypto qui sotto un canale di Discord dove potrete trovare tutto sul mondo delle criptovalute grazie per la visione un saluto da Michele aspetto i vostri commenti qui sotto un ciao a tutti quanti ciao